Un uomo ha perso la vita martedì mattina in un tragico scontro tra due auto avvenuto alle 7.45 in via 20 Settembre alle porte di Gussola davanti alla carrozzeria Multicar. Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco da Mantova. Coinvolte una captiva e una Fiat Panda, vista la gravità delle ferite dell'occupante di quest'ultima, è stato allertato nell'issoccorso da Brescia ma il trasporto purtroppo non si è reso necessario. L'uomo infatti Bruno Mastroianni di 62 anni è morto poco dopo l'impatto che ha distrutto la parte frontale della vettura come testimoniano le immagini. È stato invece trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia il conducente della captiva MS, 48 anni, residente a Casal Maggiore. Le sue condizioni sono gravi, con traumi in diverse parti del corpo, per questo si è reso necessario l'arrivo dell'elicottero. La dinamica dell'incidente al vaglio della polizia stradale di Casal Maggiore, che potrà sfruttare le immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza della carrozzeria Multicar, oltre che le testimonianze di un dipendente che ha visto la scena dell'incidente proprio mentre andava al lavoro. Si tratta, al di là di ogni ragionevole dubbio, di uno scontro frontale e laterale violentissimo. Bruno Mastroianni, che viveva con la mamma a Scandola Ravara, è morto quasi sul colpo. Si diceva, il 48enne di Casal Maggiore, che lavora presso un supermercato cittadino, lotta invece per la vita a Pavia. La stradale ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi.